Ricordo, come giustamente ha detto nell'illustrazione, col decreto ministeriale del 7 agosto 2019 sono stati stanziati a favore della Regione Abruzzo 94 milioni e 90 mila euro a valere sui fondi previsti nell'articolo 1,1072 della legge del 27 dicembre 2017 numero 205 e precisamente per l'esecuzione di interventi riguardanti la ristrutturazione dell'ospedale di penne per un importo pari a 12 milioni e 500 mila euro e la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo per un importo di 81 milioni e 590 mila euro. In data 16 giugno 2020 è stato stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge numero 241 del 90 un accordo tra il Ministero e la Regione Abruzzo concernente le modalità di erogazione del contributo per i progetti afferenti al settore edilizia pubblica compresa quella scolastica sanitaria prevista dall'articolo 1,1072 della legge numero 205 che rifinanzia il fondo istituito con l'articolo 1,140 a lettera E della legge numero 232 del 2016. Con nota del 22 giugno 2020 il Ministero ha trasmesso alla Regione l'accordo stipulato unitamente alla tabella di ripartizione dei contributi ministeriali a favore dei due citati interventi per gli anni dal 2018 al 2024. Inoltre con nota dell'11 maggio 2021 il Ministro della Salute ha chiesto alla Regione Abruzzo di trasmettere gli studi di fattibilità dei due interventi in esame ai fini dell'acquisizione del parere di competenza del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità come contemplato nell'articolo 4 dell'accordo. In data 7 giugno 2021 la Regione Abruzzo ha comunicato la consegna della documentazione relativa però solo al progetto di ristrutturazione dell'ospedale di Penne. In data 13 agosto 2021 la Regione Abruzzo ha chiesto formalmente al Direttore generale della AS4 di Teramo la trasmissione dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo entro il 30 novembre 2021. In ottemperanza quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo e i sensi dell'articolo 14,1 del DPR 207 2010 il servizio strutture e tecnologie in ambito sanitario del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha preveduto a trasmettere al Ministero della Salute in data 22 dicembre 2021 lo studio di fattibilità e tutta la documentazione progettuale pertinente ad ogni singolo intervento predisposto dalle competenti aziende sanitari regionali ai fini del parere di competenza del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Concludo quindi dicendo che in data 22 dicembre è arrivato al Ministero tutta la documentazione e attualmente è in fase di valutazione. Quindi il Ministero ha tutti gli elementi per procedere e esprimere il parere. Ringrazio il Sottosegretario Costa, il Deputato Fabio Berardini, a facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Lei la prova. Sì, grazie Presidente. Io sono soddisfatto del fatto che grazie anche a questa... Grazie Presidente, gentili colleghi, gentile Sottosegretario Costa, come rappresentante del gruppo Coraggio Italia, si è reso necessario depositare questa interpellanza urgente, ricordo depositata in data 17 dicembre 2021, proprio perché in questo momento la nostra sanità è messa a dura prova, chiaramente dalla pandemia, ed è compito delle istituzioni utilizzare velocemente tutti i fondi disponibili per migliorare ed ammodernare le nostre strutture. Con decreto del Ministro della Salute del 7 agosto 2019, infatti, sono stati stanziati circa 82 milioni di euro proprio per la sanità teramana, in particolare per l'ospedale di Teramo in Abruzzo. Il 9 giugno 2020 è stato poi firmato un accordo tra il Ministero della Salute e la Regione Abruzzo sull'utilizzo di questi fondi e con la firma di tale accordo la Regione Abruzzo si è impegnata a trasmettere subito dopo la firma, appunto, non solo lo studio di fattibilità predisposto dall'azienda sanitaria locale, ma anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori in ogni singolo intervento. Inoltre, dopo l'approvazione con determinazione del Direttore Generale competente, la Regione aveva l'obbligo di trasmettere la documentazione progettuale completa al Ministero, proprio per il parere di competenza del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Dopo quasi tre anni dallo stanziamento di questi 82 milioni di euro, purtroppo non abbiamo avuto alcuna notizia su quest'opera, quindi sull'utilizzo finalmente di questi 82 milioni di euro, ma soprattutto non ci sono stati momenti di condivisione con i rappresentanti eletti in Parlamento per quanto riguarda il territorio teramano e chiaramente non sono stati neanche ascoltati i tanti comitati cittadini che chiedono di utilizzare quanto prima questi 82 milioni di euro e soprattutto fanno una richiesta precisa alla ASL di Teramo, ossia che questi soldi vengono utilizzati per la struttura esistente, in quanto la città di Teramo non si può assolutamente permettere che questa struttura venga portata altrove, venga portata in periferia, quando abbiamo già un'area urbanizzata con anche un megaparcheggio completato proprio da pochi mesi e quindi sarebbe un'autentica follia dover spostare tutta la struttura. E quindi, concludo Presidente, per questo motivo è stata necessaria presentare, ripeto in data 17 dicembre 2021, questa interpellanza proprio per sapere a che punto sia la questione e quindi se il Ministero abbia ricevuto una qualche documentazione da parte della Regione Abruzzo, perché abbiamo il timore di fatto che con l'allungarsi dei tempi si possano perdere questi 82 milioni stanziati proprio per la sanità a Teramana. Grazie.